una piazzolla che dovrebbe essere luogo di relax mentale ci hanno provato in qualche modo anche gli operai idraulico forestali a restituire dignità a questo luogo guardate realizzando queste opere che solo loro sanno fare con tanta passione impegno ecco in quest'area che potrebbe essere veramente sfruttata al meglio invece il comune ancora non si degna di eliminare questi pali che come vedete alcuni sono proprio interrati interrati quindi da anni interrati qui altri sono stati portati proprio recentemente questo che vedete è stato portato recentemente qui dagli operai dall'impresa che è addetta alla manutenzione dell'illuminazione pubblica ecco qua vedete inter guardate interrati interrati da anni per non parlare di questo schifo che c'è qui oltre il recinto il sale che andrebbe posizionato altrove le corone da loro una volta da loro che sono state portate qui e riposano in pace e qui ben nascosta attenzione c'è anche una bombola che avevamo segnalato qualche giorno fa ed ora il comune fatto bene a nasconderla con questi sacchi tutto questo è stato denunciato più volte da oltre un mese ma non si muove nulla non si muove nulla grazie a tutti